Da tempo la richiesta era partita dai piani atti della Curia, alla fine un accordo nel segno della coesione è stato raggiunto. I locali del comune che fino al 1999 hanno ospitato la caserma Italia passeranno alla diocesi. Sorgerà una nuova mensa che potrà soddisfare i bisogni crescenti di fasce della popolazione toccate duro dalla recessione. Per il sindaco il primo passaggio verso la cittadella della solidarietà. Da quando la caserma Piave fu ceduta avendo esercitato il diritto di opzione e di prelazione del Ministero dei Beni Culturali e quindi essendo nel comune non più nella piena disponibilità è rimasto un edificio inutilizzato, vuoto e devo dire in questo momento anche fatiscente. La piccola parte che è ancora di proprietà comunale è stata ceduta con una delibera di giunta di pochi giorni fa in utilizzo gratuito alla diocesi per farne oggetto di una mensa sociale, di una mensa per chi ha difficoltà oggi anche soltanto a nutrirsi. Soddisfatto il Vescovo di Arezzo Riccardo Fontana. Credo che noi non possiamo, nessuno può togliere agli aretini i diritti e la cultura della sua città. Credo che sia importante questa intesa forte con il comune che ho trovato davvero di grande apertura in modo da costruire qualcosa di nuovo che recuperi la nostra comune identità storica. Arezzo si doterà di una seconda struttura dopo quella di Piazza Giotto. L'idea dell'Arcivescovo che abbiamo immediatamente sposato è quella di far partire il tema della ristorazione solidale ma subito dopo o contemporaneamente far partire la richiesta al Ministero di darci la disponibilità di questo bene e magari di metterci sopra, visto che ora con il Poveri Fund ci sono anche dei capitoli destinati alla condivisione sociale dei temi per poterci fare qualcosa di più interessante.